Madonna santa Giulia e dai io non ti posso vedere così sono tanti anni che ci conosciamo ma non ti ho vista mai in questa condizione mi ha chiamato Piero vieni urgentemente ho bisogno di te stommaso 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 è venuto qua e a me ti vedo ancora a piangere mi vuoi dire che cosa è successo dai Giulia di che è successo di ho litigato di nuovo con mio marito di nuovo ma è una canzone e dai scusa dove è stato marito? è in giardino giardino io non lo vedo devi scavare Giulia sto parlando seriamente e va beh Giulia muovendi eh ciao